L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulconologia, che ha l'Aquila sede in pieno centro storico nei pressi di Piazza Duomo, non lascerà la città dell'Aquila. Le notizie degli ultimi giorni, in effetti, che avevano parlato di una paventata chiusura, secondo l'INGV stesso, sono prive di fondamento. Ci sarà per ora soltanto uno spostamento negli uffici di Porta Napoli, poiché la ricostruzione del centro storico rende difficoltoso l'accesso nell'attuale sede da parte del personale. L'INGV Aquilano è una sede storica, nata nel 1958 in occasione dell'anno geofisico internazionale attorno all'osservatorio geomagnetico di Preturo, il primo in Italia. Un tema comunque che resta ancora caldo nonostante le rassicurazioni e che ha sollevato la levata di scudi dei pentastellati. Ora l'argomento approderà comunque in consiglio regionale, dal momento che il consigliere del Movimento a 5 Stelle Riccardo Mercante presenterà un'interrogazione al presidente della regione, Luciano D'Alfonso. La sede dell'istituto, ha ricordato Mercante, si era sviluppata in realtà grazie al progetto Abruzzo, con un accordo di programma tra il MIUR e la regione stessa. Una sede fondamentale questa in un territorio come quello aquilano, dove ogni giorno ricercatori, ingegneri, geologi e fisici svolgono attività di ricerca nel campo della sismologia applicata, con contratti a tempo determinato. L'INGV, stando alle indiscrezioni, è ancora in attesa della formalizzazione di un nuovo rapporto di collaborazione con la regione Abruzzo. Senza questo, ovviamente, si andrà necessariamente incontro ad una significativa riduzione delle attività di ricerca e probabilmente anche ad una riduzione dell'organico. Per questo, Mercante ritiene opportuno intervenire in tempo, affinché non si piangano poi altre vittime.